La direzione in cui stiamo lavorando in questo momento con il nostro dipartimento di ricerca e sviluppo è quello dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale ci permette di lavorare sul life cycle assessment e di anticipare molte questioni che verranno poi affrontate dopo nel progetto in una fase in cui ancora non abbiamo i dati, quindi praticamente lo usiamo in maniera predittiva. Questo per il mondo del real estate sarà una grandissima rivoluzione e siamo contenti di poter ritirare oggi questo premio proprio in questa direzione.